Come posso fare per renderlo più vero? Come? Come posso fare? Come? Non riesco. Signore, come mi posso aiutare? Non tocco da renderlo più vero. Ma spiegati di ogni chiesa. Ma cosa sono? Che cosa sta succedendo? Comparsi, siamo della nuova generazione, saremo star dietro. Buongiorno, Leonardo. E' un piacere vederti, ma chi sono queste persone in tua compagnia? Sono i personaggi della mia opera. Come hai fatto a renderli così reali? Un ragazzo ribelle è venuto e mi ha portato questi splendidi occhioli. E ora la mia opera è più vera che mai. E' un'idea eccezionale. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.